Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballGersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la terza maglia dell'Arsenal per la stagione 21-22, nella versione player, quella cioè indossata dai calciatori. La terza maglia si ispira agli anni 90, rielaborando quello stile con un tocco di contemporaneo. La maglia è caratterizzata da uno speciale motivo all over, che ne esalta la dinamicità e l'energia. La grafica contiene infine dei dettagli rossi che richiamano l'iconico colore, simbolo della squadra dell'Arsenal. Questa maglia diventa così un classico degli anni 90, rielaborato e trasformato in un capolavoro moderno. La maglia è realizzata con la tecnologia Adidas Aeroready, realizzata con materiali in grado di allontanare l'umidità dal corpo per aiutarti a mantenere la pelle asciutta. Gli orli delle maniche e del colletto sono a coste, veramente molto eleganti. La maglia è realizzata con materiali riciclati, ad alte prestazioni prime green. Le strisce Adidas sulle spalle nella versione player sono termosaldate. La maglia è bellissima, nella mia classifica questa prende 5 stelle. All'inizio non ero così convinto, ma devo dirvi che dal vivo è veramente, veramente bella, una delle più belle di questa stagione. Peraltro fatta molto bene e vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per poterla acquistare. Ora prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia large della versione player, quella indossata dai calciatori.